La conobbi tramite Sergio Leone, che me la segnalò in quanto era la parente di una sua amica, che era la moglie del sceneggiatore Arlorio, che era russa. Questa ragazza che faceva teatro a Mosca venne a trovare la cugina a Roma e Leone la vide e mi disse domani fatti vedere da un ragazzo che sta facendo un film con me, si chiama Carlo Verdone. L'era, parlava già un pochino italiano, quindi quando l'ho vista mi sembrava il personaggio ideale per il film. E' stata un'ottima compagna di lavoro, una persona molto buona, molto professionale, molto gentile, sempre spiritosa, molto ironica e la ricorderò per questo. L'era, parlava già un pochino italiano, quindi quando l'ho vista,